Ecco fatto. Questo è Home a Casa. Oggi è giorno migliore di sempre. Giorno trasloco. Per chi? Risposta? Boof. Chi è essere Boof? Risposta? Specie migliore di sempre in scappare via. Tutti i coloni Boof presenta il trasporto assegnato. È concesso solo uno bagaglio a mano. Scusa, 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 è il me? No, perdona il me, amico. Boof non è amico. In questa scena io lo sto guardando. Scusa, chi è io? Ups, mio nome è O. Io ho avuto questo nome da miei molteplici amici. Buongiorno, stacqua. Buongiorno. Oh. Ciao ragazzi. Oh. Salve. Oh. 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 Io ho molta eccitazione di iniziare Nuovo Inizio. Lui trasferisce tutti a pianeta migliore di sempre per nascondiglio nostra nuova casa. Capitano Smeg. Miei fedeli. Boom. Io ho salvato noi ancora. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. No, no, no. Eh, bisogna, 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 sì, così, sì, così. Miei fedeli. Manca oma a casa, così lo ricordo anche a Renato. Buf. Anche a Caterina. Buone notizie. Grazie a mie capacità di capo, ritirata, correre e dare a gambe. Noi sicuri da nostri nemici, i gorghi. Questo è da regista di Z. La formica ci manca solo a che. Che da bacino a papino. Capitano Smeg ha salvato noi ancora. Non blocca Gabriele. Noi raggiunti a miglior nascondiglio di sempre, dentro Via Lattea. E i gorghi intolleranti all'altosio. Oh, geniale. Loro non trovano mai noi qui. Grazie. Ok, tacco. Ma in questo pianeta è pieno di...